Salve, qui è Darla Greccia che vi parla in diretta da Blackwater City. Abbiamo appena appreso che il Capitano Quark consegnerà il primo premio al vincitore del campionato intergalattico di Overboard che avrà luogo proprio qui nei prossimi giorni. L'altra importante notizia è che questa città è stata recentemente colpita dall'invasione di stranissime creature ameboidi, ma l'amministrazione della città ci ha assicurato che sono state prese tutte le misure di difesa necessarie per eliminare questa minaccia. Per voi Darla Greccia nel vostro canale è uno!